Immagini agghiaccianti, scene che sembrano quelle di un film e invece sono la realtà. Nei video registrati dalle telecamere nascoste dei carabinieri del rione Conocal del quartiere Ponticelli di Napoli si vedono tra l'altro due scooter con a bordo quattro persone che passando lungo una strada sparno colpi di pistolo contro un gruppo rivale. Sul marciapiede ci sono alcuni giovani, tra cui un bambino, che fuggono terrorizzati verso l'altro lato della strada mentre un altro sicario, sbucato da una stradina laterale, inizia a sparare. Stamattina i carabinieri di Torre del Greco, nell'ambito delle indagini sulla guerra tra i clan D'Amico e Demico hanno eseguito una dozzina di arresti di persone ritenute appartenenti al gruppo camorristico dei D'Amico. In altre sequenze, quelle che vedete, si notano il passaggio di armi tra le vedette che si danno il cambio in strada e i ride con i gruppi di fuoco in sella a tre scooter che sparano contro i palazzi dove abitano soggetti del clan avversario. La gente del quartiere, donne, ragazze e bambini, impaurita, corre da una parte all'altra della strada e non è un film, è la vita di ogni giorno.